C'è un calo dei contagi in tutta Italia, per il terzo giorno consecutivo, ma torna ad essere altissimo il numero dei morti, che sfiora quasi 800, sempre in tutta Italia. Nel Reatino intanto vengono registrati quattro nuovi casi positivi, fortunatamente nessun decesso e Conte intanto poco fa ha annunciato nuovi provvedimenti per limitare il contagio e dunque per cercare di arginare questa emergenza coronavirus che ormai da quasi un mese attanaia l'Italia e già da qualche giorno si è estesa a tutta l'Europa. Provvedimenti che non sono ancora più stringenti rispetto già alle nostre libertà molto limitate, ormai dal 9 marzo scorso, ma che comunque propendono per un allungamento sicuramente di quanto è stato già previsto nell'ultimo periodo. Lo affronteremo insieme questo tema in questo nuovo appuntamento di Rieti Live. Buonasera dunque dalla nostra redazione, da Cristian Diociaiuti che vi sta parlando e da Luciano Mancini in regia, in generale però da tutta la redazione che lavora per aggiornare il sito e per realizzare questa trasmissione. Abbiamo tardato qualche minuto ad iniziare la nostra diretta perché abbiamo analizzato insieme le parole di Giuseppe Conte che fino a poco fa, e credo lo sia tuttora perché sta rispondendo alle domande dei giornalisti, era in diretta per annunciare quanto previsto dal Consiglio dei Ministri iniziato nel cuore del pomeriggio. Sono iniziative importanti, soprattutto a livello sanzionatorio, dunque chi sgarra tra virgolette nelle norme per limitare il contagio avrà fino a 3.000 euro di multa, andrà da 400 a 3.000 euro di multa, Conte intanto dovrà riferire ogni 15 giorni alle Camere, soprattutto si danno di fatto nuovi poteri alle Regioni che, sempre di concerto con il Governo, potranno però stringere la morsa dei provvedimenti proprio per evitare i contagi. Questo è ciò che è stato annunciato poco fa da Conte in questa conferenza stampa annunciata per le 18.20 ma che in realtà poi è iniziata intorno alle 18.30 e credo sia tuttora in corso. Avete sentito però che nel frattempo si fa sempre la conta dei contagi, si fa la conta in tutta Italia, si guarda la Lombardia ma si guarda anche al Reatino. Io comincerei immediatamente dal bollettino del nostro territorio, poi torneremo chiaramente a parlare dei provvedimenti presi da Conte. Senza dimenticare, lo so che in tanti state aspettando questa notizia, ciò che è emerso questo pomeriggio legato alla chiusura dei benzinai. Approfondiremo perché Conte ha detto anche su questo ma avremo un collegamento dedicato. Intanto però andiamo per gradi, andiamo con il bollettino partendo proprio da quello della ASL di Rieti. All'esito delle indagini eseguite nelle ultime ore si evidenziano quattro nuovi soggetti positivi al test per il coronavirus. Sono residenti nel comune di Rieti, nel comune di Fara e nel comune di Stimigliano. Pertanto salgono a 36 i soggetti positivi. 10 sono a Fara-Sabina, 7 in sorveglianza domiciliare, 2 ricoverati in terapia intensiva, 1 a malattie infettive. 11 le persone contagiate nel comune di Rieti, 5 in sorveglianza domiciliare, 5 nell'unità operativa di malattie infettive e l'ospedale dell'Ellis e una persona in terapia intensiva. Due persone a Cantalupo sono a casa, così come la persona di Poggio Bustone, quella di Poggio Moiano e quella di Torri in Sabina. A Contigliano 4 le persone contagiate, 1 paziente ricoverato a malattie infettive, 1 a terapia intensiva e 2 sono a casa. A Borgorose, una anziana, è ricoverata a malattie infettive, è stato sottoposto al tampone anche il nipote che però è risultato positivo, è negativo, perdonatemi, il nipote è risultato negativo. L'annuncio è stato dato dal sindaco di Borgorose, Mariano Calisse. Ancora, due soggetti contagiati sono a Poggio Mirteto, una persona in sorveglianza domiciliare, un altro è ricoverato presso l'unità di terapia intensiva dell'Ellis. Due sono i pazienti invece contagiati nel comune di Stimigliano, uno ricoverato a Terni, l'altro invece si trova a casa. 5 le persone sospette contagiate da Covid, sospetti positivi, sono ricoverati a malattie infettive e aspettano chiaramente gli esiti dei tamponi. 188 persone in sorveglianza domiciliare, 172 sintomatiche, praticamente la quasi totalità, 16 sono sintomatiche. La situazione nel Lazio, D'Amato oggi record di guariti, 40 in 24 ore, 188 casi però che appartengono prevalentemente a tre cluster. Uno è vicinissimo, è nero, la ne abbiamo parlato anche sul nostro sito. Questa casa di riposo, praticamente 76 persone tra ospiti e persone che lavorano all'interno della struttura sono positive al coronavirus, sono attenzionate, sono sospette positive. L'altro chiaramente riguarda la casa di riposo Giovanni XXIII di Roma e l'ini Città Bianca di Vero, lì in provincia di Frosinone. Praticamente stiamo parlando di quasi 100 casi di positività, anzi 87 per la precisione. Abbiamo detto che ci sono 40 unità di persone, quindi 40 persone guarite, 103 totali, la crescita maggiore dall'inizio dell'emergenza, sottolinea la Regione. Sono uscite dalla sorveglianza domiciliare in 5535. Peraltro il poliziotto di Pomezia, che era risultato positivo al coronavirus e che era ricoverato in rianimazione, è stato stupato ed è adesso in degenza ordinaria. La Regione, peraltro, ci fa sapere che 46 persone a Rieti sono uscite dall'isolamento domiciliare e sono stati attivati ieri 14 posti letto all'ospedale dell'Ellis. Entro la prossima settimana saranno attivati ulteriori 18 posti letto dedicati. Il dato italiano, invece, vedete qui nella nostra apertura, nella una delle nostre aperture, la foto di Angelo Borrelli, capo della protezione civile. Calano i contagi, ma torna altissimo il dato dei morti, 743 in un giorno in Italia. In particolare, dall'inizio dell'epidemia si registrano 69.176 contagiati, praticamente in 70.000, 6.820 morti e 8.326 guariti. Questi numeri diffusi dalla protezione civile, i casi attuali sono 54.039, oggi più 3.600, i morti sono 6.820, oggi più 743, mentre i guariti sono 8.326 più 894, dunque, in 24 ore. C'è tutto il dettaglio della protezione civile, lo trovate sul nostro sito. Un'altra apertura, invece, del nostro orietilife.it, orietilife.com, è indifferente, è dedicato, un altro primo piano, è dedicato alla serrata dei benzinai. Anzi, il primissimo pomeriggio arriva l'annuncio da alcune sigle sindacali, adesso le vediamo insieme. Pronti alla serrata, dalle autostrade fino alla rete viaria ordinaria, siamo pronti alla serrata. Tra poco ne parleremo con ConfCommercio Lazio Nord, ci faremo dare il dato reatino. Certo che è stata corsa veramente al distributore, in cui tutti sono andati a fare rifornimento, nonostante si debba restare in casa, comunque le persone vogliono avere benzina per poter fare gli spostamenti di necessità o di lavoro, e quindi si sono create code anche ai distributori. L'annuncio è stato dato, come vi ho detto nel primissimo pomeriggio, da Faibe, ConfEsercenti, Fegica Cisl e Fegisc Anisa, che è ConfCommercio. Dunque, ne potremo parlare ampiamente con Leonardo Tosti, a breve. Sostanzialmente, vi riassumo quello che hanno detto i sindacati, noi da soli, parlano chiaramente per coloro che gestiscono le pompe di benzina o che comunque fanno rifornimento, non siamo più nelle condizioni di assicurare né il necessario livello di sicurezza sanitaria né la sostenibilità economica del servizio, sostenibilità di sicurezza dunque per loro e per i clienti, con che il servizio, perché chiaramente anche i trasporti e dunque la mobilità si è ridotta moltissimo e chiaramente gli introiti sono pochi. C'è da dire che, questa è una mia personalissima opinione, è una bella minaccia per cercare di essere ascoltati, probabilmente coloro che si occupano di rifornimento di carburante e più in generale di pompe di benzina, si sono sentiti un po' esclusi dai provvedimenti recenti del governo, soprattutto quelli legati ai 25 miliardi e dunque magari hanno voluto alzare la voce. Conte, proprio nella conferenza stampa di cui vi dicevo prima e in cui ha annunciato altri provvedimenti, ha detto assicurerò la filiera alimentare e anche il rifornimento e mi auguro che i sindacati tornino sui loro passi e anche i benzinai lo facciano, stiamo per battere la notizia a breve se non l'abbiamo già fatto, grazie alla nostra redazione. Voglio approfondire il tema benzinai insieme al presidente di ConfCommercio Lazio Nord, Leonardo Tosti. Buonasera Tosti. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, credo che lei ci stia per dare una notizia, perché insomma chi più di lei ci può dare il polso della situazione, dell'eventuale adesione a questo sciopero che tra gli altri, serrata chiamiamola così, tra gli altri vede impegnate alla FIGISC, ANISA, cioè ConfCommercio, insieme a ConfEsercenti e alla CISL. Che cosa le hanno risposto i gestori, o meglio la parte di ConfCommercio che si occupa di pompe di benzina a Rieti? Sì, dunque per quanto riguarda Rieti sicuramente gli abitanti del nostro territorio potranno stare tranquilli, perché le pompe per il momento non chiuderanno, quindi chiuderanno sicuramente tutte le pompe che si troveranno sui percorsi autostradali, però per quanto riguarda Rieti sono state garantite i servizi essenziali ma costanti insomma in tutto il territorio. Quindi possiamo dire insieme Tosti di non avviare una corsa al rifornimento? No, quello che mi è stato assicurato è che in provincia di Rieti non ci saranno distributori che aderiranno per quanto riguarda coloro che sono iscritti con ConfCommercio, però diciamo che sono in tanti le pompe che sono nostre associati, quindi ci hanno garantito che per il momento non aderiranno a questo sciopero. Beh, un bel gesto di responsabilità, ma io credo, analizzavo, non so se mi ha sentito prima, credo che la mossa di, in questo caso Confesercenti, ma in realtà anche delle altre sigle sindacali, sia un modo per farsi sentire probabilmente da Conte, dal governo più in generale. Diciamo che le pompe della benzina in questo momento stanno aperte, il flusso dei rifornimenti è diminuito tantissimo, e quindi logicamente a livello economico stanno effettivamente e veramente facendo servizio per la popolazione. Quindi bisogna apprezzare lo sforzo che stanno facendo nelle nostre zone, cercando di non complicare di più quello che potrebbe essere anche non avere la benzina. Allora, da sottolineare che chiaramente è vero che sono limitati gli spostamenti, però qualcuno ne ha più di una necessità ovviamente per spostarsi, per fare la benzina, e ci mancherebbe altro. Noi più e più volte... C'è anche chi fa... scusa, ma c'è anche chi lavora, insomma. Certo, certo, appunto. Gli artigiani, le imprese in questo momento continuano a lavorare, quindi hanno bisogno. Assolutamente, assolutamente. Poi volevo collegare, sottolineare questo insieme ad un'altra cosa, che noi più volte abbiamo voluto ringraziare e sottolineare l'impegno, non solo di chi chiaramente è in primissima linea, parlo dei medici, dei sanitari, ma anche di tante tante figure che in questo momento garantiscono servizi quasi a rimetterci, vogliamo dirlo Tosti, perché insomma la cassiera che lavora nel supermercato, il benzinaio, l'artigiano che garantisce magari una manutenzione... Sono persone che stanno ad altissimo rischio, sono persone che stanno logicamente ad altissimo rischio, non dico come i medici e le infermieri, e le infermiere che veramente in questo periodo sarebbe davanti proprio un monumento, ma voglio dire, anche chi fa altri servizi, perché sono servizi che prendete i dipendenti di un alimentare, cioè durante la giornata considerate che in questo periodo le richieste di approvvigionamento sono aumentate dal 30 al 40%, è un dato molto importante, e quindi tutti i dipendenti poi a chiusura debbano rimettere a posto, rifornire gli scaffali, quindi è un lavoro pesantissimo, molto pesante. Tosti, lei chiaramente è la voce dei commercianti reatini, di una grandissima parte. Sì, io sono a fretto e giroposta anche con tutta la provincia di Viterbo. Eh, infatti, quello volevo sottolineare. Ho fatto anche delle interviste su Viterbo, ma la situazione è uguale pure su Viterbo. No, io volevo sottolineare questo insieme a lei, non ci nascondiamo, lei è titolare neanche di un negozio, di una catena di negozi di abbigliamento che chiaramente sono chiusi perché non definiti primari. Un imprenditore in questo momento, come lei, ma anche magari più piccolo o più grande, cosa sta vivendo, cosa si aspetta e quale certezze ha? Allora, sono momenti difficilissimi perché avere un'attività e non incassare, non poter lavorare per un mese, un mese e mezzo, due mesi, questo è quello che si vocifera, che arriverà a fare, crea veramente dei dubbi perché poi la cosa non è che finisce qui, nel senso che prima che riparta una catena e riparta un ciclo virtuoso, ma forse passerà un anno e poi è capitato in un periodo in cui noi abbiamo tutte le attività piene di qualsiasi genere, proprio con l'inizio della stagione estiva, qualsiasi attività si prende, c'è dentro al negozio tutto l'assortimento nuovo, appena arrivato con il negozio chiuso. È veramente pesante e dico che senza essere smentito da nessuno, gli aiuti che stiamo avendo sono veramente pochi e niente. Speriamo che nel prossimo decreto che verrà fatto saranno inseriti degli aiuti più sostanziosi, veri, perché qui abbiamo bisogno di liquidità, abbiamo bisogno di non pagare gli affitti, poi come dovranno essere rimborsati i proprietari degli immobili dovranno deciderlo loro, ma tenere un'attività e pagare un affitto, non per essere andato in ferie, ma proprio per essere chiuso e fatto chiudere da un problema grandissimo, qualcuno bisogna che ci dà una mano. Certo, certo. Tosti io la ringrazio, siamo pronti chiaramente a dare voce ancora al mondo dell'imprenditoria, piccola, media, grande, del commercio, dell'artigianato. Grazie. Ci sentiamo presto, grazie. Grazie, buona sera a tutti. Grazie a Leonardo Tosti, presidente di ConfCommercio Lazio Nord, che avete sentito è interessato ovviamente della zona del Reatino, ed è un Reatino DOC, ma è impegnato anche su Viterbo e ci ha dato una situazione similare anche per quanto riguarda la Tuscia, ma soprattutto ci ha dato una notizia importantissima. No alla corsa al rifornimento, perché i distributori rimarranno aperti, hanno garantito, i Reatini almeno, che non ci sarà adesione a questa serrata, ma c'è gesto di responsabilità, dunque rimane l'apertura sul Reatino, non ci saranno disagi. Abbiamo ricevuto segnalazioni diverse da tutta la città e dalla provincia di code alle pompe di benzina, non vi affrettate, non correte a fare rifornimento, magari non è neanche, fate solo lo spostamento per il rifornimento e quindi potrebbe anche essere preso come spostamento non necessario e allora fate molta molta attenzione perché Tosti è stato chiaro, non ci sarà adesione nella parte della viabilità normale, chiamiamola così, stradale, c'è solo un'adesione nella parte autostradale, ma capite che insomma stiamo parlando veramente di una parte limitatissima delle pompe di benzina e dei distributori. Mentre siamo in attesa di fare un altro collegamento importante, sempre legato all'economia e di avere ospite in studio il direttore Emiliano Grillotti, io direi di andare con un'altra inquadratura in modo di poter fare rassegna, grazie Luciano sei sempre preziosissimo, per poter fare rassegna per quello che sono state le dichiarazioni di Giuseppe Conte. Allora innanzitutto i rifornimenti, rifornimenti di carburante sempre garantiti, benzinai tornino sui loro passi, quello che vi avevo detto prima ma ribadisco per chi si fosse collegato soltanto adesso a rieti, rifornimenti garantiti, non ci sarà adesione alla serrata preannunciata da alcune sigle sindacali, ce l'ha detto poco fa Nando Tosti. E ancora i provvedimenti previsti da Conte, multe fino a 3.000 euro per chi viola le norme anti-Covid, si va da 400 a 3.000 euro per chi viola le norme, dunque per chi esce senza una motivata giustificazione, la spesa, motivi di salute o per andare al lavoro. E ancora, emergenza fino al 31 luglio, falso, pronti a revocarla il primo possibile. Conte ha spiegato, ci provo anche io, anche se non è facilissimo, anche se non è facilissimo, che il 31 luglio, che è una data uscita fuori in questi giorni, in realtà era una data più ampia per avviare l'emergenza, una data astratta ha detto Conte, per avviare l'emergenza e per mettersi di poter mettere in campo alcuni provvedimenti come abbiamo visto. Quindi Conte ha detto semplicemente, io conto di ritirare il prima possibile i provvedimenti e le restrizioni alle libertà costituzionali, come abbiamo visto, di movimento, di spostamento, di riunione, perché poi di quello si tratta, conto di toglierle il prima possibile, in virtù chiaramente dei dati che arrivano quotidianamente dal contagio, dalle vittime, dal numero dei contagiati, dalle varie regioni, eccetera, eccetera. Altro aspetto significativo, ha detto Conte, è l'aver regolamentato in modo lineare gli interventi del governo e delle regioni. I governatori e i presidenti di provincia autonome possono decidere per misure più severe, chiaramente rimane la funzione di coordinamento del governo. Di fatto la regione X, mettiamo il Lazio, può restringere alcuni provvedimenti di spostamento, di apertura e chiusura delle attività, ma dovrà avere un DPCM, una firma comunque del presidente del Consiglio. Ci sono poi le sanzioni, si aggiunge una multa da 400 a 3.000 euro, come vi ho sottolineato, e non solo, Conte dovrà riferire ogni 15 giorni al Parlamento e ogni provvedimento che verrà preso da qui, diciamo in realtà a tamponare, ad allungare quelle che sono le situazioni che sono state poste in essere fino al 3 aprile, ognuna di queste cose poi verrà inviata di fatto alle Camere. Quindi non più provvedimenti, sì provvedimenti d'urgenza, ma con la supervisione del Parlamento. E poi c'è appunto la precisazione, la trovate anche sul nostro sito, legata al 31 luglio. Do il buonasera al direttore Emiliano Grillotti, che con me fino a poco fa ha seguito la conferenza stampa di Giuseppe Conte, prima cosa direttore... Il ritardo di Conte. Il ritardo di Conte, la comunicazione... La Cospia ha detto e ha dato una sua versione sul ritardo di Conte. La diamo? Sì, sì, prego, prego. È che in 20 minuti di ritardo ha aumentato di 58.000 i like sulla sua pagina Facebook. Ha superato i 2 milioni, compresi i 100.000 dell'altro giorno, che è ritardo a mezz'ora. E ha dato ampia, forse anche qualche cosina in più. Sì, 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 sì. Non commentiamo. Vabbè, la comunicazione... Vabbè, sul fatto che c'eravamo tornati anche con Chiara domenica, insomma, su quell'annuncio di sabato, poi non seguito dalle norme del DPCM, insomma... Vabbè, in questo momento d'emergenza, a meno Grande Fratello e un po' più di concretezza, forse sarebbe migliore. Non è proprio colpa di Conte lì, magari. No, una comunicazione non proprio puntualissima, questo però ci sentiamo di dirlo, non soltanto strettamente legata al tempo. Però, questo è... c'è uno staff di comunicazione importante, dei 5 Stelle, possiamo dire, insomma, quindi ci affidiamo a loro e oggi viviamo nel mondo del web, come sappiamo, anche noi stiamo sul web e ogni secondo è prezioso. Ogni secondo c'è un aggiornamento, per cui anche il fatto di dover smentire la data del 31 luglio, l'hai detto prima se non sbaglio, Cristian, è dovuta da quello, perché qualcuno fa uscire delle bozze del decreto e così con il web in pochi minuti, insomma, lo vedono tutti. Prima di andare con il collegamento, 20 secondi, provvedimenti ultimi come li valuti? Provvedimenti... Sanzioni maggiori in rapporto col Parlamento e più poteri che le regioni. Pannicello caldo. Pannicello caldo. Commento. Non c'è nessun commento da fare, nel senso che sì, aumentano le multe. In questo momento non è il discorso, comunque il pensiero di multare i cittadini o le persone. Affidiamoci al loro buonsenso, Zingaretti anche oggi ha dichiarato che la stragrandissima maggioranza dei cittadini romani, ma si riferiva anche all'intero territorio nazionale, stanno rispettando le regole. Adesso il problema non è quello di fare le multe e di aumentarle, il problema è di contenere questo virus, quindi l'allarme sanitario, ma soprattutto, ne parleremo da adesso in poi, l'allarme economico lanciato anche da Tosti poco fa. Assolutamente. Nella giornata di ieri, 23 marzo, in ottemperanza delle più stringenti disposizioni relative ai divieti di circolazione per il contenimento e la diffusione del Covid-19, nel territorio della provincia di Rieti le forze polizie locali hanno controllato 657 persone in un giorno, da quello che leggo, 216 esercizi commerciali e denunciato 29 persone per la violazione dell'articolo 650 del codice penale, quindi significa aver violato le disposizioni dell'autorità. È arrivata adesso la Prefettura, anche questa è una comunicazione un po' parziale, perché eravamo fermi al dato di una settimana e passata un'altra settimana ci hanno mandato solo quello di ieri. Vabbè, non voglio perdere tempo ulteriormente su questa cosa. Buonasera Giovanni Grillo, commercialista, esperto di tematiche a cui vogliamo chiedere diverse cose, perché sicuramente il popolo delle partite IVA, il popolo dell'artigianato, del commercio, dell'impresa si sarà rivolto a professionisti come lei. Dal 9 marzo, ma dai giorni successivi e soprattutto dal Cura Italia, voglio sapere qual è il tenore della telefonata più ricorrente dai suoi clienti o da futuri clienti? La telefonata più ricorrente riguarda la richiesta dei famosi 600 Euro che hanno inserito nel decreto Cura. Noi come professionisti nell'ambito delle imprese brancoliamo un pochino nel buio con le interpretazioni, come state cercando di spiegare voi puntualmente tutte le sere, vi faccio i complimenti per questo servizio che state facendo. Noi dal primo DPCM, che è quello dell'11 marzo, fino al decreto Cura che è il 18 del 2020, abbiamo visto una serie di disposizioni che sono state inserite in questi decreti che vanno dal credito d'imposta per le locazioni, il credito d'imposta per la sanificazione dei locali, fino ad arrivare a dei bonus di 600 Euro in sostanza per tutti quei soggetti che hanno una contribuzione previdenziale inso, di fatto andando ad escludere tutto il mondo dei lavoratori autori. Ci sono a mio avviso in questi decreti delle macchie di Leopardo, nel senso che non vanno a prendere tutti gli attori dell'economia italiana innanzitutto. Secondo voi siamo in attesa ancora dei decreti attuativi di queste disposizioni che hanno effettuato. Vi faccio un esempio, se a oggi c'è un contribuente, un nostro cliente, che ha diritto per disposizioni normative alle 600 Euro, ad oggi collegandoci al sito dell'Inps, che è il sito deputato per fare queste richieste, noi non siamo in grado di fare la pratica. Come non sono in grado ancora ai consulenti del lavoro, di fare la richiesta delle casse integrazioni. Quindi stiamo tutti i giorni sui siti a cercare praticamente delle novità che ci diano la possibilità e diano la possibilità a tutti i nostri clienti di tenere botta in questo momento difficile. Per il mondo dell'economia vi dico che il momento è molto difficile. Hanno tutti paura di non riuscire a tenere botta sostanzialmente e le attuazioni che il decreto ci ha messo a mio avviso non sono valide per reggere tutta l'economia italiana, specialmente i più piccoli. Ora, proprio poco fa, è uscito un documento congiunto da parte del Presidente nazionale dell'Ordine dei commercialisti e del Presidente nazionale dei consulenti del lavoro, dove è stata fatta una proposta per reggere questo momento di difficoltà dal punto di vista dell'economia e io questo documento l'ho pubblicato poco fa sul mio profilo Facebook, se volete lo potete vedere perché ho scritto molto bene in maniera molto semplice. Ho scritto noi abbiamo le idee chiare, perché sappiamo come fare, però dobbiamo fare i conti con qualcosa che è molto più grande di noi, che si chiama la finanza pubblica e l'investitamento pubblico, quindi speriamo di riuscire a raccontarlo, questa volta dal punto di vista dell'economia. Il direttore Emiliano Grillo ti ha qualche domanda per Giovanni Grillo. Sì Giovanni, buonasera. La cosa che mi ha più colpito della comunicazione che ho qui sotto mano e cioè come da oggetto, cioè il bonus dei 600 euro, è il click day. Allora io voglio, sì, poi Giovanni dici tu, il click day, dimmi se sbaglio interpretazione, chi prima arriva meglio alloggia. Allora, in una prima istanza era stato detto del click day, chi prima arriva meglio alloggia. Poi ovviamente c'è stata una sommozza da parte di tutte le associazioni di categorie. Ma ci rendiamo conto? Certo, è una cosa gravissima. Infatti l'hanno fortunatamente restificata, nel senso che c'è un capitolo che dispone una certa somma. Al finire di questa somma, se non basta per tutti, dicono che faranno degli incrementi. Questo è quello che hanno temuto a dirci il nostro governo. Che poi è un'altra anomalia è un'altra cosa che non funziona. Quel bonus da chi spetta? Spetta a tutti quelli che hanno un volume d'affari inferiore a 2 milioni di Euro e a tutti quelli che hanno parallelamente una contribuzione INPS, che può essere una contribuzione a INPS gestione separata, INPS, commercianti, INPS e artigiani. Ora che succede? Questi dati sono tutti, tutti, tutti presenti negli archivi e nei sistemi dell'INPS. E invece per accedere a questo bonus occorre avere un PIN, un PIN che ti rilascia l'INPS. Quindi la pratica è sempre a carico del contribuente, dell'imprenditore. Quindi sarebbe stato molto più semplice. Ho individuato io INPS tutte queste persone e a queste persone mandano 600 Euro. Invece c'è questa complicazione. Attualmente per richiedere un codice PIN ci vogliono circa 15 giorni. Infatti noi indichiamo di andare alle poste e invece del codice PIN prendere il codice Speed, che è una cosa molto simile, però è più veloce nel rilascio. Pazzesco. Ci guardiamo con il direttore e diciamo pazzesco. È pazzesco, sì. È un qualcosa di pazzesco. Giovanni, scusami, ma è possibile che non vengano inseriti in questo elenco i professionisti ordinistici, diciamo così? Cioè soltanto quelli che hai detto tu fino adesso, ma tutti gli altri che hanno una cassa di previdenza non sono ammessi a questo bonus? Perché se andiamo a vedere chi non è ammesso, c'è la lista più lunga di chi è ammesso a questo bonus? Certo, certo. Sono tutti i professionisti che hanno praticamente una cassa di appartimento, una cassa di appartimento diversa da quella che è l'Inps, che è una cosa assurda, perché poi le casse per il momento non stanno rispondendo come sta rispondendo l'Inps. Poi ammesso pure che è un importo insomma di 600 euro che lascia il tempo che trova, perché... Un'impresa non si ritana dopo un mese, due mesi, non siamo entrati appunto nel merito delle 600 euro che per molti è una presa in giro, insomma, per quasi tutti. Condivido, condivido pienamente. Magari non è materia strettissima di Giovanni Grillo, però chiedo, la storia dei voucher, quindi in favore delle mamme e dei papà che possono beneficiare di soldi per quanto riguarda le babysitter e questo tipo di cose, cioè o decidere di continuare a lavorare e quindi prendere la babysitter, oppure prendere un salario magari ridotto, però continuarlo a prendere e quindi restare a casa. Lì com'è la situazione? Avete richiesto anche lì? Avete richieste particolari? Ci si riesce ad orientare oppure no? Sinceramente no, cioè le nostre sono più, cioè queste qui le vedo più come un qualcosa da patronato. Sì, la CAF, insomma. più che da professionisti del mondo dell'impresa, generalmente sono i dipendenti che stanno in un periodo particolare che richiedono questo incentivo, però da noi insomma non arriva come, non arriva l'estensione dei permessi per il 104. Certo, ho capito. Cioè queste qui sono tutte le misure per la gestione dei rapporti del lavoro per la famiglia. Ok, ho compreso la cosa, ho compreso. L'ultima domanda, ma questa è più una curiosità, io non ci ho capito niente, ma i commercialisti sono aperti o sono chiusi? I commercialisti sono aperti. Sono aperti. I commercialisti sono aperti, ovviamente, siamo aperti, noi possiamo stare aperti, però parallelamente andiamo ad attuare, almeno il mio studio, andiamo ad attuare tutte quelle che sono le prescrizioni. Noi a studio ci alterniamo, ci alterniamo nel senso che un giorno va uno, un giorno va l'altro. In più, avendo fortunatamente tutti i nostri programmi e tutti i nostri documenti che girano in cloud, siamo anche molto agili con lo smartwatch. Si potrebbe fare anche da casa, telefonando, insomma. Esattamente. Bene, bene, era una curiosità, era una curiosità anche per capire come il mondo dei professionisti deve purtroppo adattarsi, anche se è sempre un mondo un po' più all'avanguardia rispetto ad altri, però come deve adattarsi anche questo tipo di lavoro. La ringrazio Giovanni Grillo, buon lavoro anche a distanza anche di smartworking e grazie delle puntualizzazioni. Buon lavoro e grazie per il servizio di aggiornamento che state facendo perché è fondamentale per tutti, non solo per il mondo delle imprese, ma per la cittadinanza tutta che sente i proclami che ci fanno, insomma le conferenze stampa che sono poco chiare. Sono spesso un po' univoche, è vero. Esatto. Grazie Giovanni Grillo. A voi, grazie. Buona serata. Grazie. Qualcuno chiaramente si complimenta anche con Grillo, lo leggo nella diretta, mentre invece Marco, gli rispondo, speriamo ci stia ancora seguendo, sono in tanti che sono in diretta su Facebook, dice, penso si riferisca ai benzinai, ma se fanno i turni non sarebbe meglio per tutti? Io vado in giro a fare tentata vendita? Se non posso mettere gasolio, come faccio a lavorare? Hai ragione Marco, però abbiamo spiegato che su Rieti, almeno, questa è la risposta che ti possiamo dare, su Rieti non ci saranno problemi, ha garantito Nando Tosti. È chiaro che però se vai a fare tentata vendita a Viterbo, a Terni, a Roma, lì ti devi regolare con quello. Purtroppo in uno sciopero i turni non sono certamente garantiti. E' anche vero che pur se si sciopera ci sono di solito i self, anche negli scioperi ci sono stati in passato. Credo che sia una bolla di sapone questa dei benzinai. Sì, credo sia di non battere i pugni sul tavolo da parte dei sindacati. Ma giustamente, Cristian, giustamente da parte dei benzinai, ma giustamente da parte di tutti, perché qui, parliamoci chiari, qui non ci servono i bonus da 600 euro. Ragazzi, guardiamoci bene in faccia, ha ragione Vincenzo Boccia, il presidente di Confindustria, che ha detto, siamo in un'economia di guerra e questo è economia di guerra. Che cosa vuol dire? Zai ha detto cura da cavallo. Esatto. Serve la cura da cavallo. Tante piccole cose, tante grandi cose, perché qui chiudono le attività, chiudono le attività. Basta un mese per far chiudere un'attività. Figuriamoci se ci sarà un protrazzi, come più o meno logico, di questa emergenza. Il credito d'imposta, ci ha parlato Grillo, qualcuno che è un po' più dentro e esperto, sa che cos'è il credito d'imposta. Non ci servono queste cose. Non servono queste cose. Serve liquidità nelle tasche dei lavoratori e non dei lavoratori esclusi, una lista infinita. Di tutti, di tutte le attività. E questo deve essere un decreto fatto o da fare nell'immediatezza. Perché quando c'è un'economia di guerra vuol dire che si è in guerra e vuol dire che le decisioni vanno prese in maniera precisa, più possibile, ma soprattutto rapida. Perché qui si va a gambe all'aria tutti quanti. Tutti. Nessuno escluso. Scusate lo sfogo. Ma io sono preoccupato, come tutti quanti, siamo preoccupati anche noi. Anche noi dell'informazione. Perché noi andiamo avanti, sì. Ma se le attività non vanno, se le attività chiudono, come facciamo? E io che ho sempre sbandierato che non prendiamo contributi pubblici, non prendiamo contributi dallo Stato. Adesso sarebbero comodi, direttore. No, ma non li voglio, ma non li voglio, li voglio per le aziende, li voglio per le aziende, non per noi. Perché a noi ci supportano le aziende, le cosiddette aziende amiche. E questo è. Ma se chiudono, chiudiamo tutti. Quindi i benzinai hanno fatto bene a fare quello che hanno fatto, durerà l'arco di un giorno questa protesta o questa tentata serrata che volevano fare. Il problema è questo, andiamo qui a battere. C'è il prestito a 30 anni? Prestito a 30 anni, però bisogna farlo subito il decreto. Un prestito e poi va restituito in 30 anni. Con tassi molto molto agevolati. In tranquillità, con tassi bassissimi. Questo si fa quando si è in guerra. Questa è una guerra contro un nemico che nemmeno vediamo. Bisogna rendercene conto e bisogna agire. Ecco perché ogni tanto noi ce la prendiamo con l'informazione o con la comunicazione da parte della Presidenza del Consiglio. Perché queste sono le domande che ci chiedono per strada, che ci telefonano qui in redazione, ci mandano le mail. Posso aprire, posso fare l'asporto. Un amico nostro senza fare nomi, pizzaiolo, che mi chiama tutti i giorni, giustamente. In preda a quelli che sono i problemi. Perché sono tutti padri di famiglia, siamo tutti padri di famiglia. Posso portare la pizza a casa? Non sta scritto da nessuna parte. Ci chiedono queste cose. Bisogna essere più precisi. Io mi scuso con voi che ci seguite, mi scuso con te Cristian, per lo sfogo e per questo atteggiamento un po'. È un sentore comune perché poi ogni volta che Conte parla, che il governo esprime qualcosa, poi c'è sempre un punto di domanda. Ok, oggi per carità, legittime anche dei passaggi un po' più formali per le regioni, con il Parlamento. Però adesso, per esempio, c'è in ballo un'altra cosa. È il 24 marzo. Il 3 aprile scade il valore del DPCM. Peraltro, io non voglio dire una stupidaggine, ma domani scade l'ultimo giorno per le restrizioni delle attività che valevano fino al 25. Quindi rimaniamo sempre un po' così in sospeso. Vediamo come valutano anche... Posso concludere? No, no, prego, prego. Scusandomi ancora per il tono, forse un po' arrogante, come direbbe qualcuno. Volevo dire... Vai avanti. Ci dovremmo... No, io volevo valutare invece come erano usciti i recenti provvedimenti sulla stampa. Mi è tornato. Se vuoi lo dico subito. Guarda, voglio solo dare questa notizia. Allora, sì del governo le nuove sanzioni, previste multe da 400 a 3.000 euro. Conte e regioni potranno adottare misure più dure. La circolare del capo di gabinetto, della ministra dell'interno, Luciana Norgese, inviata ai prefetti. La trovate sul Corriere della Sera. Ecco, vedi quello che diciamo insieme. Misure modificabili e reiterabili. Ecco perché si parla tanto del 31 luglio. Perché poi, se tu dici una cosa, in questo momento c'è la massima attenzione anche a tematiche... Parliamoci chiaro, un decreto non se lo filerebbe nessuno in un tempo normale. Nessuno andrebbe sul sito del governo a cercare... Nessuno, zero. I professionisti lo farebbero. E qualche giornalista. È chiaro che adesso invece, se si va a cercare anche veramente... Sì, spieghiamo anche perché il 31 luglio, perché l'emergenza è quotata in sei mesi. Quindi scadrebbe il 31 luglio. Quello che volevo dirti, Cristian, volevo dire a chi ci ascolta, sia ben chiaro. Il mio non è un attacco politico in senso stretto, ma politico in senso ampio. E cioè non ha colori politici quello che stiamo dicendo e quello che ci chiedono. Questo sia ben chiaro, quindi non c'è nessun partitismo o cose del genere in quello che diciamo. Diciamo soltanto di darsi una mossa, perché abbiamo adesso, adesso al 24 marzo, abbiamo capito quello che sta succedendo. E che ci si chiede. L'abbiamo capito in ritardo, per carità, l'abbiamo capito molto in ritardo e questo è un altro aspetto. Però adesso abbiamo capito e abbiamo capito quali sono i problemi. Ripeto, le prendo sempre da boccia. Economia di guerra, perché di questo si tratta. E qui bisogna mettere mano. Prima possibile, prima possibile. Assolutamente. Abbiamo anche Gualtieri, che è un professionista di un certo livello, il Ministro dell'Economia. Per cui contiamo molto il loro. Questo è quello che mi sentivo di dire in conclusione. Direttore, resta perché nella rassegna del nostro sito sicuramente c'è anche qualche spunto su cui vuoi intervenire. Allora, materiale sanitario introvabile, la Camera di Commercio lancia l'appello alle imprese reatine. Ieri abbiamo sentito Dolumello, c'è grande impegno della protezione civile nazionale e locale per cercare di trovare questi oggetti qui, anzi forse anche in maniera più schillata, più importante. Insomma, queste sono, diciamo, di utilità minore rispetto a quello che servirebbe, quelle che vedete in fotografia, di mascherine. Regione D'Amato, oggi consegnate nel Lazio 31.450 mascherine e domani altre 30.000. Fine settimana un carico da un milione. Era quello che preannunciava Tulumello ieri. Avete visto i vari bollettini, la foto di Basilicata con la situazione a Fara-Sabina che insieme al Comune di Rieti è tra le più colpite nel reatino. Ora a Fara-10 casi è una lotta al virus, ovviamente, insieme alla ASL. E ancora i nuovi casi nel reatino, abbiamo detto che sono quattro. L'anticipazione che avevamo dato sui provvedimenti del Governo, così il Governo vuol contrastare il virus. E ancora, una situazione che ci tiene molto in ansia e che è nata da un fatto. C'è una persona ricoverata a Rieti da Nerola, o meglio, da ieri c'era una persona ricoverata da Nerola. I contagiati sono 72 in questa casa di riposo. Spieghiamolo, non è in provincia di Rieti, Nerola. Grazie che ce lo scrivete sempre. Però scriviamo di Nerola, e soprattutto di questo caso, che si sta allargando molto di questa casa di riposo, è a confine con la provincia di Rieti. Io credo che ci siano anche tanti vecchietti, magari ospiti, proprio dalla Sabina, dalla provincia. Quindi è anche interessante, anche perché 72 persone contagiate tra operatori e ospiti, sono in larga parte ospiti. Insomma, ci sono poi gli approfondimenti. È vero che è tutto curato dalla ASL Roma 5, che è quella un po' più periferica, però ci interessa, ecco perché lo seguiamo e ve ne diamo conto. Bella proposta del Partito Democratico che dice APS sospenda le bollette dell'acqua, che rientra in un ampio discorso che facevamo poco fa, mentre c'è chiaramente tutta la questione tra i sindacati e un'industria che chiedono maggiori tutele per i lavoratori. Mentre continuano ad arrivare i rinvii. Allora, oggi è arrivata l'ufficialità del rinvio delle Olimpiadi, e questa catena porterà a tanti altri rinvii. Ci sentiamo dirlo anche agli europei di atletica di Rieti di luglio. L'AEA si è presa 15 giorni, ma credo che a breve arriverà la decisione della Federazione Europea di rinviare questa manifestazione a tutela di tutti. Il mondo dello sport è inguagliato. Altamente. Altamente inguagliato. E per non parlare del calcio, dei campionati di calcio e delle leghe che stanno anche in contrapposizione in questi minuti, vorrebbero dimezzare anche o comunque dare meno stipendio ai giocatori. quindi si sta discutendo su tante cose e di come finire un campionato. E poi noi parliamo di calcio, siamo appassionati, parliamo di sport, siamo appassionati, ma c'è una questione economica dietro. Il calcio è la prima azienda d'Italia. Assolutamente. Purtroppo, per fortuna, è così. Guarda, a proposito di sport, questa è una brutta notizia. Il Rieti Sport Festival è rinviato, si tiene di solito a inizio giugno. pensano a settembre, Sergio Battisti e Meloccaro e Stefano Meloccaro. Insomma, speriamo possano farlo. L'NPC intanto ha rimandato i giocatori a casa, addirittura gli americani sono praticamente tornati in patria. Ancora qualche lancio del nostro sito. Intanto la cronaca. Oggi è arrivato anche qualche fiocco di neve in città. Il Terminillo è tornato ad imbiancarsi, ma in città qualche fiocco, un po' di nevischio c'è stato sicuramente. Come vedete poi qui le Olimpiadi e gli europei d'atletica. E ancora una donazione della setta del tocco alla ASL di 1000 euro. Attenzione, questa è una notizia importante. Abbiamo battuto stamattina, annunciato proprio dal comando dei Vigili del Fuoco, un Vigile del Fuoco reatino, positivo al coronavirus. Ci risulta essere asintomatico. Asintomatico, chiaramente. Ci risulta essere asintomatico. Questa è una notizia che abbiamo noi e speriamo rimanga tale e che ne esca prima possibile. Però ci sono anche 14 colleghi in quarantena, ovviamente. E questo lo abbiamo detto. Nel frattempo, per chiudere questa nostra rassegna, il Papa pensa a chi non ce l'ha fatta. Morti 24 medici e 50 sacerdoti, eroi a servizio degli ammalati. È una notizia che vi abbiamo dato. Questa mattina, per chiudere le mappe, come solito, partiamo da quella della protezione civile, che fa abbastanza sempre impressione. Attualmente positivi 54.030, guariti 8.326, deceduti quasi 7.000. In totale positivi 70.000 persone dall'inizio dell'emergenza. 7.000 morti, sono tantissimi. Sono tantissimi, tanti, tanti, tanti. L'andamento, allora, i morti sono riaumentati oggi rispetto a ieri, calano i contagi e probabilmente stiamo iniziando a sentire gli effetti delle chiusure, della limitazione degli spostamenti. Voglio dare un'occhiata al mondo, invece. Vedete, insomma, che l'Europa è praticamente in preda al coronavirus, ma, insomma, anche le Americhe e l'Asia non scherzano. Quasi 400.000 casi confermati, 16.000 morti in tutto il mondo. Ma questi non sono neanche dati troppo aggiornati, perché mancano dati delle ultime dieci ore. 194 i paesi colpiti, praticamente, la quasi totalità della sfera della Russia. In positivo, nel senso che sono pochi. Non lo so se in positivo o in negativo, però colpisce questo numero. Sì. 438. La Federazione Russa ha scritto 438, mentre l'Italia, lo vedete qui, è la seconda realtà per contagi dopo la Cina. 69.000 contro 80.000, anche se nel numero di morti c'è stato un sorpasso. Anche se sul numero di morti c'è sempre da discutere. Un termine statistico. Sì, questo ce lo sta insegnando la Germania. Sì, che ha un numero altissimo, ma... La Germania, lo spieghiamo, calcola come decessi per coronavirus e basta. Invece l'Italia no. Calcola il con. Anche i decessi, esattamente, anche i decessi a seguito anche del coronavirus vengono inseriti in quei numeri che vediamo lì. La Germania non fa questo. E quindi, io adesso non so... È questione di discussione anche in Europa, a livello europeo. Francamente, anche un po' stucchevole la conferenza delle 18. È un po' pesante. Di tutto abbiamo bisogno in questo momento, tranne alle 18, di avere a rete unificate, Borrelli e Brusaferro, che ci dicono i numeri dei morti. Insomma, per carità, è comunicazione, va fatta, però sta diventando pesante anche a livello psicologico, quello che sta diventando questa emergenza. Non ci dimentichiamo di una cosa, Cristia, scusami, delle violenze tra le mura domestiche. Questo è un altro problema che chi di dovere dovrà e deve affrontare. I reati di natura domestica sono aumentati, c'è una percezione dell'aumento, questo non lo diciamo noi, ma lo dicono le associazioni, soprattutto lo dicono coloro che poi se ne occupano anche a livello normativo. Mettiamola così. Abbiamo concluso e voglio ringraziare tutti coloro che si sono collegati in diretta a Facebook. Voglio salutare Giovanni perché ci ha riempito di complimenti e ringraziato e noi li rigeriamo a lui, perché comunque è importante il vostro apporto. Grazie, grazie Giovanni e grazie a tutti coloro che ci seguono. Sono tantissimi, Cristia, quindi complimenti ancora a te per quello che stai facendo. No, grazie a tutta la relazione. No, noi ce la mettiamo tutta. Assolutamente. Finché ce la facciamo, siamo qui. Finché ce la facciamo, siamo qui. Forse anche dopo. Assolutamente. www.rietilife.com, il nostro network è ricco, c'è anche eternilife.it, romalife.it, i nostri social che sono Facebook, Instagram e Twitter sempre aggiornati, chiaramente la nostra piattaforma Rietilife TV in cui troverete a breve anche questa puntata che è comunque andata in diretta a Facebook. Grazie a direttore Emiliano Grillo, ti buon lavoro. Grazie, grazie mille Cristian. Un saluto a tutti quelli che ci seguono e ci hanno seguito questa sera. Grazie a Luciano Mancini in regia, sempre preziosissimo compagno di viaggio in questa trasmissione. Restate a casa, spostatevi solo per necessità, dunque per fare la spesa, per andare al lavoro eventualmente o per motivi di salute. Non ci sarà serrata dei benzinai a Rieti almeno, a Rieti almeno ce l'ha assicurato Nando Tosti, dunque neanche corsa al rifornimento, fatelo sempre con le dovute maniere e le dovute cautele. Noi torniamo domani sempre alle 19. Buonasera. A Rieti almeno. Grazie a tutti.